Salve ragazzi e benvenuti sul mio canale dopo la pausa estiva, andiamo ad analizzare le qualifiche del Gran Premio di Olanda in casa di Max Verstappen, non della Red Bull perché come vi ricordo la casa della Red Bull è l'Austria. Abbiamo assistito a questa pole position che io davo per scontata e con larghissimo margine, ma non è stato così. Infatti si è verificato quello che tanti di voi hanno risposto al sondaggio che ho proposto ieri sul canale, cioè che è la Ferrari che è migliorata e non tanto la Red Bull che si è nascosta, anche se la Red Bull si è nascosta ieri. La Red Bull ieri si è nascosta completamente anche perché aveva avuto dei problemi al cambio, ma soprattutto vedendo Perz si è nascosta e oggi ha dimostrato, io penso, il suo vero potenziale totale. Quindi non voglio credere che abbiano ancora del margine sul pedale, che domani ci sia ancora questo grandissimo margine rispetto alle Clerc, perché da come abbiamo visto oggi le Clerc Verstappen erano praticamente lì. Oggi poteva esserci lo scaccomato e la pole position in casa loro, in casa degli Orange, da parte di Charles Leclerc e anche Sainz è andato bene. Quello che mi ha stupito è un po' Perz, ma non capisco perché, o è molto più forte, vabbè, non o è molto più forte, Verstappen è molto più forte, però Verstappen ha tirato la macchina al limite, al limite, quindi non ha alzato, non mantiene ancora un po' di gas da parte per domani, per me ha dato tutto. Vedremo sul passo gara, domani gara interessantissima, speriamo in decisione corrette del box Ferrari e non nell'ennesima cavolata, nell'ennesima decisione inspiegabile da parte del signor Binotto e compagnia bella. Sarà una gara combattutissima, combattutissima e spero veramente che Charles dia battaglia, dia battaglia e non faccia stravincere questo Max Verstappen che è fenomenale, io lo dico è fenomenale. Sì c'è la macchina, ma vedi Perz? Non fa le stesse prestazioni di Verstappen, Verstappen è fenomenale, qualcuno nei commenti su qualche video mi ha risposto Eh no, ma che fenomeno, ma che steady, ma che fenomenale. Ragazzi, la macchina c'è ma lui è bravo, lui è bravo. Mia personalissima opinione, il talento puro è Charles, il talento puro è Charles, ma Max Verstappen è bravo. Domani però Charles darà battaglia, non è niente dato per scontato, domani non è data per scontata neanche la marea arancione che vada a festeggiare là sotto una toppietta Red Bull, domani niente è dato per scontato. Se la Max e il motore Ferrari regge e dal box escono fuori decisioni normali, non dico fenomenali, tattiche fenomenali, Charles darà veramente fastidio e battaglia a questo Max Verstappen che è fenomenale, è fenomenale. Comunque avete azzeccato nel commento, nel sondaggio che ho proposto ieri, molti di voi hanno proposto, hanno auspicato una Ferrari migliorata, e quindi questa Ferrari migliorata, non lo so, questa Ferrari migliorata, pare dar battaglia a questa Red Bull, ormai con quasi 100 punti di vantaggio sul secondo in classifica, in classifica piloti. Penso che abbia un po', come posso dire, se sia un po' deconcentrata, abbia tolto un po' l'attenzione massima che aveva prima, lo spero, lo spero, e spero che quell'attenzione sia andata alla Ferrari, e che domani ci sia veramente una gara che dall'inizio alla fine ci possa far dire, oh, oggi l'abbiamo combattuta, e non le solite imprecazioni da gestione sbagliata del muretto, delle gomme, incazzature di charts, io lo spero, lo spero, quindi ragazzi, dai, ci vediamo domani per, qui sul mio canale, per la live della gara, che come vi ripeto, i tempi che vedete, ed il circuito sono in diretta, ma ahimè per problemi di connessione il commento è circa un minuto indifferita, e ci vediamo anche per il commento dopo gara, come sto facendo adesso per le qualifiche, dove voi potrete dire la vostra nei commenti, io cercherò di rispondere a tutti quanti, e ne parliamo, ne parliamo ragazzi perché si prevede qualcosa di buono, si prevede qualcosa di buono, ciao ragazzi!